Salve a tutti ragazzi bentornati su Break2Player e eccoci qui con Attila Total War e questo è l'episodio successivo alla disfatta in oriente la disfatta ovvero l'attacco che abbiamo portato nei confronti delle truppe di Attila, cioè l'attacco che loro ci hanno portato nei nostri confronti che ha avuto un effetto devastante sui nostri uomini nel senso che sono morti ben 3 eserciti anche se erano danneggiati e noi siamo riusciti a infliggere danni molto consistenti agli uomini del nemico ma non abbastanza da distruggerlo totalmente quindi è stata appunto una sconfitta, una sconfitta comunque insomma orgogliosa però rimane una sconfitta quassù nel Novd intanto mi sembra che qualcuno si era anche affacciato da queste parti allora noi ragazzi cosa succede adesso? succede che abbiamo un esercito i Martelli di Thor che è appena rientrato a Tullifordum non abbiamo praticamente più uomini, siamo nella merda più totale nel senso abbiamo un esercito se non sbaglio qui, un esercito totalmente pieno che andrà a supportare la guerra qua, anzi io direi di mandarlo ad Acquasextie, meno 64 qui come l'ordine pubblico meno 25, mandiamolo verso Elusa ragazzi e vedremo di attaccare anche la città di Narbo per conquistarla e inglobarla nei nostri territori perché ci darà un ottimo porto nel Mediterraneo che ci fa molto comodo ok ok dunque per adesso la nostra espansione in Spagna si ferma si ferma nel senso che aspetteremo il momento giusto per colpire la Ispania ma per quanto riguarda l'impero romano di occidente aspetteremo un po' perché si tratta proprio dell'impero romano di occidente e non c'è da scherzarci magari potremmo vedere come vedete ci sono ecco per esempio la regione di Lisbona è desolata potremmo vedere di comprarla potremmo comprare tutte le varie piccole ragioncine come vedete qui intorno ai nostri territori ci sono un sacco di territori da poter acquistare che ci possono far comodo potremmo addirittura arrivare in Dalmazia acquistando territori consecutivi e qua tutto fino a qua giù all'estremo oriente tutto desolato ok ragazzi quindi io direi di riorganizzarci cercare di fare magari una guerra lampa contro questa fazione e cercare poi di riorganizzarci appunto per colpire Attila allora cosa fare cosa fare intanto abbiamo 5943 abbiamo la possibilità di reclutare degli uomini più forti come il signor di cavalli nordici si sono già vellottisti nordici e poi le nostre unità che conosciamo bene dunque io direi sì di fare tre unità di queste questi guardiamo un attimino nel discorso della velocità attacco corpo a corpo ma scusate attacco bonus caric ma non ci dice non ci dice la gettata questa ce la dice la gettata no sono gli stessi dati ok poi io direi di andare quindi su dei razziatori vichinghi un 4 unità signori della guerra nordici dei cavalli nordici cavalleria pesante corpo a corpo perderemo un po' di velocità ma guadagneremo di cattiveria e poi andrei su queste unità qui schermagliatori tra le ne abbiamo uno vedremo di farne un altro e due frombolieri siamo a 16 si potremmo fare un cavallo e tre cani o quattro cani perché i cani sono utili per contrastare le unità di cavalleria leggera nemiche oppure di cavalleria pesante mentre con la nostra cavalleria pesante andiamo a colpire la cavalleria leggera per cercare di buttarla giù però no sono più utili con la cavalleria leggera che effettivamente la più veloce ok guadagneremo 13.000 in un turno ragazzi il fatto che ci hanno buttato giù tutti gli eserciti qualche aspetto positivo ce l'ha e vediamo di fare fine turno ok ok dunque il nostro esercito è in turno in bur di gala sta per arrivare all'usam lì ci vorrà un turno narbo dovrebbe essere difesa da quelle truppe che vediamo lì gli unni guardiamo ragazzi perché questi hanno sempre qualche asso nella manica ma a quanto pare non succede niente l'impero romano d'occidente ora non vorrei che i rapporti con l'impero romano d'occidente appunto peggiorassero al punto che decidono di chiararci guerra non penso perché comunque non non abbiamo fatto niente di negativo nei confronti dell'impero romano d'occidente gli unici che magari potrebbero essere scocciati dal nostro comportamento sono secondo me gli ostrogoti perché abbiamo transitato molto nei loro territori anche l'italia eccoli qui i separatisti che vengono qui e si riprendono la città d'annazione pensavo che non non attaccassero subito cioè che sbucassero e poi attaccassero invece questi qui sono i ribelli separatisti dell'impero romano d'occidente o dell'impero romano e basta separatisti romani se non sbaglio ribelli romani d'occidente ok quindi questi sono appunto dei ribelli logoramento abbiamo perso degli uomini fame siamo a meno 10 ribellione imminente in Aquitania in Aquitania che stiamo arrivando adesso con i nostri uomini e non possiamo a quanto pare entrare in modalità maccio normale vabbè quindi pompa elo in quella situazione qui dobbiamo convertire ordine pubblico più 2 più 1 l'influenza religiosa accampamento della guarnicione perché non ce lo fai fare perché dobbiamo ripararlo ovviamente dunque facciamo 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 il bosco sacro il bosco sacro questo qui ok con l'altro nostro esercito veniamo a scacciare nuovamente questi uomini tanto sono ribelli quindi no problema quindi stracciamoli presentemente qui ragazzi il discorso dell'ordine pubblico è abbastanza altalenante perché ovviamente si tratta di due province che due regioni che non appartengono assolutamente alla nostra cultura io l'ho già occupata e saccheggiata infatti vedete 1897 è stato recintato e saccheggiato quindi andiamo a occuparlo e basta mi è ucciso in battaglia questo tizio qui l'ordine pubblico è meno 45 e meno 32 quindi dovremo vedere di tenerlo buono qui siamo a 0 meno 29 vediamo di dare una nuova abilità alla nostra forza gli potremmo dare questa e direi cacciatori anzi anche se rovina di Roma più 3-4 Roma no vabbè andiamo cacciatori per adesso che aumenta le munizioni e poi qui appunto abbiamo un turno qui cosa hanno fatto ah no ok qui semplicemente dobbiamo dobbiamo aspettare aspettiamo qui c'è l'integrità in calo non so per quale motivazione che stiamo morendo di fame ok quindi riqualifichiamo questi uomini a quasi più canzi a cavallo qui cosa c'è c'è ben meno 50 di cibo ma è oh questa dunque qui ci serve 4 di crescita per avere una nuova un nuovo edificio quindi si dobbiamo aspettare allora abbiamo fatto come indietro ragazzi tutte le ricerche del ramo tra i sia civile sia militare quindi stiamo andando bene vediamo le prime ricerche dell'ambito civile influenza religiosa più 2 alle religioni di stato ordine pubblico più 3 per le riforme burocratiche ricchezza più 7 derivanti dagli edifici commerciali costi di relazioni politiche a meno 25 all'influenza personale per tutti i personaggi frequenza all'attacco a distanza più 10 per le unità d'assedio permette la costruzione di macchine d'assedio pesanti lavoramento meno 30 quando si assedi a tempo resistenza del nemico all'assedio meno 1 doppio per le città portuali classe militare d'elite esperienza all'unità più 1 per tutte le unità di cavalleria reclutate più 1 all'unità di fanteria con asce reclutate più 1 per le unità di fanteria con spada qua sopra invece abbiamo costi di mantenimento meno 5 per tutte le unità al costi di ruotamento meno 5 è enorme vabbè questa qui più 10 frequenza attacco a distanza armatura più 3 danni corpo a corpo più 3 io andrei su quelle militari e dunque qui cosa abbiamo costi di ruotamento a meno 10 per l'unità di mercenari e meno 30 per l'unità di mercenari ma questa è una verità un po' utile in determinante situazioni cultura marziale invece ragazzi è enorme a noi ci serve questa e per farlo ci serviranno questa e questa ricerca questa ci darà dei nuovi guerrieri i guerrieri nordici d'elite leader dell'alziatore nordici e guerrieri nordici d'elite sostituisce i briganti nordici sono la stessa unità sostituiscono i guerrieri e i briganti nordici ok oltre a dare più esperienza alle unità reclutate quindi andiamo a prendere johnny depp sembrerebbe questo qua dietro ok quindi andiamo avanti allora allora vediamo che esercitini stanno tirando fuori lancio 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 e a non finire lancio ovunque ok dunque qui abbiamo uno agente uno agente che può venire da queste parti a dare un'occhiata ai possedimenti di quella che è la settimania vediamo di raccogliere informazioni sulla posizione di eventuali altre forze non penso che ne esistano successo così ma io questa cosa non l'ho capito vabbè comunque raccogli informazioni mi sa che ci dava altri bonus alla fine forse l'avevamo già visto inganna questo potenziamo gli inganna e potenziamo gli assassinio perché sono abilità sicuramente forti abbiamo praticamente completato il mago uno due tre quattro e cinque basta cinque gradi quindi due livelli ah si in effetti guarda se l'ha quanta roba c'ha vabbè quanti anni hai amico tipo muori ora vero quarantanove sei giovanissimo complimenti dunque altre spie altre spie ne abbiamo una qui e la mandiamo anche questa a sud ok qui quanto andremo di ordine pubblico il prossimo turno a minus settantase quindi dovremo poi andare di qua qui invece siamo a meno settantase meno tredici comunque in discesa vediamo ragazzi di levare di torno le tasse in Aquitania vediamo se ci riesce come si faceva ricerca edifici nope penso così e l'usa varicum tasse provincia via ok forse esatto meno nove abbiamo guadagnato un po' di tempo in parte non preferisco guadagnare un po' di più ragazzi perché in questa situazione riusciremo a gestirla tranquillamente quindi io direi di fare fine turno heretour ha un'abilità non assegnata il governatore della belgica penso e gli diamo questo non è hereto le nostre rede continuo a pancazione forza comandata rinforza con questo niente questo posto di costruzione meno 5 ricerca più 10 degli edifici per le attività produttive anzi vogliamo se c'è qualcosa degli edifici commerciali no va bene facciamo con l'attività produttiva grado di fatica velocità di movimento esercito mandato con l'ammiraglio forza comandata costo di costruzione meno 10 per l'attività di fontria da attiro ricchezza più 5 degli edifici per le attività agricole più 10 derivante dalle riserve vediamo di fare questa cosa qui e passare ah ok non gli abbiamo dato nessuna abilità questa cosa ci dà morale più 3 questo aumenta solo la capacità in attacco costo di costruzione meno 10 per la provincia governata ok quindi facciamo questa cosa e facciamo fine autunno 482 ragazzi dovremmo anche completare la missione se non sbaglio cioè siamo sopravvissuti fino a questa data e siamo entrati in guerra con gli uni e forse avevamo fatto anche un'altra missione non mi ricordo cosa vediamo vediamo un po' ragazzi ora potremo anche scegliere se chiedere la pace attenzione guardate i gru no i lugi e lungobardi entrano nei territori degli alemanni in modalità orda e gli rompono il cazzo ecco lì qui attenzione abbandonate tutte le speranze è diventato per noi sapienza di Dio solo la fede poteva salvare i giusti piangevano di paura non ascoltate le false profezie degli eredici cacciatevi via perché hanno attirato la punizione divina su di noi e quando aprì il quinto sigillo vidi le loro anime straziate nel nome di Dio di Dio di Dio ok ragazzi quindi ci fa vedere anche i problemi interni all'impero romano in questo momento l'ultimo veramente abbiamo perso 171 uomini ristrattiti di sangue che bello figlio legittimo e in armadre in gibjorg capito la 3 devastazione abbiamo completato un obiettivo bonus e ribellione eminente in galla eschia ok missione assegnata nessuna pietà per i perfidi punizione sopravvivi fino alla primavera del 445 che è la data di morte di attila quindi se riusciamo ad arrivare appunto a 13x4 quindi ok 440 52 turni che non sono pochi arriveremo alla morte di attila e guadagneremo ben 8000 di fare di stato ubriaco in servizio attenzione dunque questo uomo era ubriaco durante il suo turno di guardia la causa di questo sembra essere l'atteggiamento nelle nostre truppe d'elite nei confronti di questi bifolchi quindi andiamo a vedere cosa vuole questo ubriaco in servizio questo uomo era ubriaco durante il suo turno di guardia la causa di questo sembra essere l'atteggiamento delle nostre truppe d'elite nei confronti di questi bifolchi quindi cosa? perché scusa lui si è ubriacato per l'atteggiamento di loro quindi deve uccidere loro no? frustiamo lui? ignorare il problema no, ignoriamo il problema ragazzi non siamo troppo cattivi dopo tutto siamo vichinghi del nord praticamente sono sempre ubriachi quindi non cambia un cazzo dunque andiamo a direzare sta visuale me l'avete detto diverse volte e vediamo di organizzarci perché allora tenere questi uomini qui non so quanto senso abbia qui siamo comunque a meno 38 però siamo a due di crescita di quanto ci manca per questa crescita? oh mamma mia e qui è un casino però potremmo vedere invece di tenere buono l'ordine pubblico da queste parti anche se perderemo un insediamento qui ok qui come siamo? 77 meno 5 pompa elo possiamo questo non possiamo riparare ah no è già ok convertiamo quindi in questo che terrà buono l'ordine pubblico questo qui tanto non ha conversione quindi lo buttiamo giù e basta mentre da queste parti questo lo convertiamo e questo lo convertiamo e abbiamo già dato il via alla conversione di tutto no questo riparo ok si diamo appunto la possibilità di convertire gli edifici nella nostra fassion questo lo portiamo a livello 3 perderemo ancora shibo ma guadagneremo di ordine pubblico sperando che non ci sia una ribellione nel prossimo turno ahi mamma mia prossimo turno ribellione quindi rischieremo una rivolta proprio in questi territori ragazzi si è questa dobbiamo aspettarcela speriamo non ci riconquistino subito fatta che fatta che fatta che non abbiamo modo di avvisarlo vabbè questi quanti tu ne hanno un turno un turno e ci potrebbero mancare quindi andiamo a riflettare subito le nuove unità eh quattro cani o si facciamo quattro cani tre unità di cavalleria basta no? eh si ma gli schermagliatori uno e due ci bastano? facciamo tre cani e un altro romboliere fa poco danno ma molto aggettata ok eh gli unni gli unni non ne vediamo molti a giro non ci lamentiamo diciamo vediamo di aumentare l'ordine pubblico 943 no mi dispiace ragazzi qui tentiamo di uccidere il nemico ok qui vi ricordo che abbiamo anche una truppa una flotta che ci aiuterà in questa battaglia eh successo quindi abbiamo buttato giù il loro generale buono qui cosa abbiamo un altro generale che è forte andiamo fin attino generale il giusto se cerchiamo di colpire loro magari lo sta collando l'esercito rovinando le scuole ok quindi vediamo di passare il turno e andare nella inverno del 432 fine turno fine fine turno guarda sicuramente ci sarà la rivela eccole qui guardate i galli i galli però potremo tenerli buoni senza molti problemi intanto gli unni si avvicina a Juvavum e vanno verso August Vindelicorum un esercito stanno venendo verso nord ragazzi quello è Uburgzis come vedete là sopra dovrebbe essere già Uburgzis è quello con le gemme è già confinante con noi ok risposta a tono dei marcomanni che fanno fuggire questo esercito che però si riunisce con gli eserciti che abbiamo già colpito noi dove è Attila ribellione in inquietà noi lo sapevamo figlio legittimo continuamente fame meno 193 vabbè Uburgzio in servizio abbiamo perso 500 e guadagnato più 3 morale per 3 turni ok buono quindi andiamo a vedere non c'è un'impletata di giudizio di piazza non c'è un'impletata piccola città noi abbiamo come è la situazione meno 3 di ordine pubblico e non ci piace vediamo di tirare su il pontile peschereccio perderemo 4 di ordine pubblico però io direi di fare un altro di questo qui qui tiriamo su questo o no ci da un bel po' di soldi un turno di calce ripienzo più 7,50 costo di costruzione meno 7 questo è un ottimo un ottimo edificio dunque però aspettate ragazzi perché su in cima potremmo anche pensarci dopo mentre quello che ci preme che ci strizza il culo di fare è questa roba qua sotto ovvero convertire convertire e demolire di qua invece come procede ci vuole il giusto qui avremo una ribellione fra poco e qui avremo fra molto una ribellione quindi vediamo di portare questi uomini a elusa magari non in marcia forzata perché dovete stare in marcia forzata comunque qui stiamo guadagnando 20 per turno quindi almeno questo ce le teniamo diciamo questo bonus di 20 per turno fino a che questi questi ribelli gallici ce lo danno nel frattempo vediamo di colpire questi uomini qui cercando di ostacolare l'esercito e depistandolo magari successo ok quindi sarà più lento nel muoversi e questo invece lo ostacoliamo rovinando le sue scorte stiamo sempre colpendo ragazzi l'esercito più debole qui abbiamo una flotta di due unità successo ok vediamo se qualcuno si ha preso un'abilità banane lamponi qui quanto siamo 27 27 qui 82 12 affronto un turno ci prendiamo il bosco sacro ordine pubblico potremmo quasi vedere di eh no eh no non ci conviene secondo me ok eh questa città che cazzo città enorme Bracala noi pensavo fosse forse Lisbona o Liona o Lispo è in un'altra provincia a questo punto immagino ma sì questa è una provincia tre eccola qui ok e dunque ragazzuoli dunque 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 andiamo un attino dovrebbe essere tipo da queste parti l'esercito degli uni esatto i nostri territori sono qui ecco Augusto Trevorum è qui quindi due città ragazzi hanno raggiunto i nostri territori ma non vediamo la coroncina e senza coroncina noi non ripartiamo l'attacco anche se ragazzi questi sono gli eserciti che hanno preso gli schiaffi dai nostri perché sì abbiamo perso ma gli abbiamo dato gli schiaffi questo dobbiamo riconoscercelo allora i marcomanni stanno rispondendo stanno rispondendo e ciò è ci riempie di gioia gaudio giubilio e sarebbe anche il caso che noi prendessimo qualche altra città ma non adesso non in questa zona almeno usando i nostri averi che entrano appalati adesso i soldi nei nostri forzieri vabbè per adesso vedremo di gestire questo attacco qua e ci dovrebbe bastare questo esercito a dire la verità un pochino sì io penso che ci basti questo esercito però vedremo magari di portare anche questo per sicurezza sì vabbè con questo siamo alla grande però facciamo fine turno per adesso vediamo ragazzi allora andiamo agli unni cosa fanno che è quello che ci preoccupa vedremo sicuramente dei movimenti la gente che torna in Italia a colpire un esercito del separatisti romani è un esercito oh dio sono arrivati a nord ragazzi sono arrivati a nord dobbiamo uccidere Attila in tutti i modi perché ragazzi non non è fattibile affrontare una fazione così potente riescono a tirare fuori truppe su truppe dal niente niente logoramento 183 uomini persi le nostre strati di sangue il terremoto 162 figlio legittimo che fame 269 ciboli quelli non imminenti in gala tesoreria 2000 sconfiggi il seguente esercito frere dell'uni si è assegnata ok l'unni quale sarebbero oh oh armata d'oro armata d'oro fragelli della steppa scusate qual è il missione assegnata i fragelli della steppa si ma se tipo il fragelli della steppa lo lasciamo perdere coppiamo Attila e lo scoppiamo questo non sono a distanza di aiuto qui noi siamo a distanza di attacco non sappiamo cos'ha ragazzi però non sappiamo cos'ha noi vogliamo uccidere Attila dare il tutto per tutto allora intanto diamo come obiettivo per i nostri alleati l'esercito di Attila assolutamente chiudiamo e guardiamo se ha una pilone sulla testa ragazzi è qui aiutateci ok poi io direi di fare un salvataggio rapido ragazzi e ritentare il tutto per tutto sperando che non sia a distanza di rinforzo non dovrebbe essere a distanza di rinforzo siamo in svantaggio tantissima di cavalleria però la combatteremo sul campo ragazzi questa ce la dobbiamo fare in tutti i modi soprattutto buttare su Attila è il nostro obiettivo principale ok quindi la battaglia di Rujon il 433 martelli di Thor l'esercito fuggito dal fronte forse uno dei due eserciti sopravvissuti alla campagna nel sud contro gli Unni rientra in patria distrutto nell'arco di qualche turno si rimette in piedi e vede il nemico entrare nei propri territori eroicamente esce e va ad affrontarlo nella foresta vicino a Rujon il 433 potrebbe essere l'anno in cui le difese vichinghe le difese dei geati cedono al passaggio del flagello di Dio Attila oppure l'anno in cui il flagello di Dio Attila viene definitivamente sconfitto nelle foreste innevate del nord allora l'asciutto ci potrebbe dare dei bonus attendiamo nebbia ci garba la nebbia perfetto ok come vedete ragazzi siamo in una bella foresta fitta quindi cercheremo di sfruttarla al massimo passando tutti i livelli nascosti con queste parti cercando di colpire l'esercito nemico anzi guardate qua che bella collinetta ok quindi vediamo di prendere i nostri uomini e schierarli in maniera adeguata gruppo 3 gruppo 4 gruppo 5 e gruppo 6 quindi ragazzi allora gruppo 1 ovviamente informazione lì è simile se riusciamo a mettere un gocciolino indietro sono proprio nascosti però però di qua abbiamo tutta questa zona qui che ci potrebbe piacere vediamo di mettere magari il gruppo 3 qui secondo me riesce a fare molti danni a questo ultimo se riusciamo a metterlo in maniera adeguata ok nascosto 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 buono poi abbiamo il gruppo 2 che anche questo qui sarebbe il caso di metterlo in una formazione più stretta vogliamo allargare troppo il nostro esercito ma non vogliamo neanche concentrarlo oltre un punto il gruppo 4 sempre in formazione linea singola lo mettiamo qui siamo dietro la collina quindi non ci vedranno il gruppo 6 lo mettiamo in formazione linea singola qui e il gruppo 5 lo mettiamo in formazione colonna qui ok iniziamo la battaglia vediamo se le unità del nemico ragazzi l'esercito di Attila si para di fronte a noi dove i nostri frombolieri in ricognizione sulle colline non vedono niente vediamo di avanzare piano piano verso il fronte della foresta magari se riusciamo allargarci in maniera da poter passare velocemente all'altra zona non vediamo ancora nessuna nessuna nessun pallino rosso eccoli qua eccoli qua ragazzi che sono stati individuati appunto arcieri del diavolo ogni ok io direi che è il caso di passare oltre e cercare di raggiungere questa zona oppure no oppure aspettiamo semplicemente gli uomini del nemico si avvino dunque 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 potremmo vedere di mandare un'unità di cavalleria in ricognizione anche noi cos'hai questa indistruttibilità sarà impossibile far scendere il modale dell'unità per un stesso periodo direi che è un'abilità abbastanza forte questa si ok vediamo la nostra unità di cavalleria che per favore incarica però vieni qua per favore no ma ti ho detto ma fa un po' cazzo che ti pare girella da queste parti vogliamo individuare il nemico e poi rientri per favore si ma corri ok diamo un'occhiata andiamo a velocizzare il tempo magari attenzione non si vede niente attenzione ecco l'alleanza del nemico ok ragazzi abbiamo individuato il nemico e ciò è bene ci hanno già preso proprio di cattiveria qui oh oh ok fermi tutti ragazzi mettiamo in pausa un secondino qui ci hanno proprio preso già di cattiveria ok io questi uomini qui non possiamo più fargli niente hanno preso il fuoco di chiunque nell'alto di qualche secondo abbiamo tenuti fermi lì purtroppo allora sono là quindi io direi con il gruppo 1 di cercare di avanzare fino a qui con il gruppo 2 allo stesso modo vediamo di uscire fuori con il gruppo 3 stiamo lì con il gruppo 4 vediamo eseguire il gruppo 1 con il gruppo 6 eventualmente saliamo qua sopra iniziamo ok iniziamo un'altra volta questo questo cosa ok vediamo il la possibilità di fuoco dei nostri rombolieri loro si ritirano ok questi nostri uomini qua li mettiamo tutti in modalità spazi larghi ah si la cavalleria non gli abbiamo detto niente quindi la cavalleria vediamo di portarla qua su e faremo la carica dei rohiri al fosso di elma guardate che bel discesone che abbiamo per fare a posto questa cosa non si riusciamo a individuare siamo dentro al cono di fuoco delle unità nemiche no ancora no ok vediamo di guadagnare il limite della collinetta penso che potrebbe essere un ottimo risultato guardiamo eccoli che si girano ragazzi per colpire le nostre unità ok quindi io direi di avanzare immediatamente con il nostro gruppo 5 senza perdere troppo tempo da questo lato le nostre unità qui sono nascoste quindi ecco lì che ci hanno individuato il gruppo 5 probabilmente verranno a cercare di intercettarcelo dal nostro lato ma noi entriamo in modalità come lo disco ok ok dai dai che se no la perdiamo uomini addosso ok la cavalleria dov'è eccola lì bravi ragazzi gruppo 6 gruppo 6 addosso ecco attila ecco attila ecco attila addosso attila con il gruppo 6 cerchiamo anzi con uno dei gruppi 6 di venire a colpire gli schermaggiatori dell'avversario mentre arrivano i nostri uomini ok la cavalleria ragazzi addosso e con quest'altra addosso si si ciao attila arriviamo anche noi ma ti spiego una cosa siamo indistruttibili allora il nostro generale a muro di scudi sarebbe il caso il nostro generale si muovesse andiamo di mettere furia ragazzi al nostro ai nostri uomini qui il nostro gruppo 1 ha già questa abilità questi vediamo di attivarli a tutti questa nostra cosa ok schermagliatori ragazzi ok attila è sotto attacco da parte nostra però noi siamo sotto attacco da parte dei nemici questo qui vediamo di dargli indistruttibilità addosso ragazzi attila addosso ok qui stiamo subendo il fuoco un po' del nemico questi ragazzi devono colpire gli arciori nemici attila cazzo si abbiamo buttato giù attila abbiamo buttato giù attila ok ragazzi qui abbiamo buttato giù le catapulte del nemico vediamo è proprio morto attila si speriamo vediamo di colpire anche queste unità del nemico qui stanno arrivando delle unità con lancia abbiamo solo due unità di cavalleria ma i cani cosa stanno facendo i cani sarebbe il caso aiuto si ma scusate dov'è l'altra unità di cavalleria no no dove stanno andando venite qui a colpire loro venite qui a colpire loro l'arcieri dai avanzamento rapido vai ok qui stiamo bene qui stiamo morendo alla grande qui stiamo resistendo ma ragazzi non ci interessa a questo punto abbiamo sconfitto attila e secondo quello che è stato detto oh ma i frombolieri non li usiamo ora che ci penso abbiamo tre unità di frombolieri lì ho capito allora cerchiamo di rendere indistruttibile quest'unità quest'unità di cani da guerra dov'è scusate qui e che ci fa qui vabbè venite a colpire da questa parte dai dai che non ci sono troppe le unità del nemico anzi no colpite questi va ok voi rientra dai no non fuggite wow guardate loro come come si resiste da queste parti questi uomini non ce la fanno più praticamente i nostri uomini ci stanno cedendo ok ragazzi siamo siamo in fondo siamo in fondo e questi frombolieri praticamente sono gli ultimi sopravvissuti vediamo se riusciamo corpo a corpo il vaffanculo il tutto per tutto ormai abbiamo ottenuto quello che volevamo sconfitta di misura ok ragazzi abbiamo perso questa battaglia abbiamo perso 1400 uomini contro i 683 che abbiamo tolto al nemico quindi molti ne abbiamo persi però teoricamente abbiamo ucciso Attila non che questo ci dia immediatamente un bonus esagerato però ci dovrebbe appunto levare di torno dei bonus enormi agli uomini vedete ci sono sopravvissuti ben tre unità di frombolieri il resto è stato terminato tutto non sono facili da gestire le unità veloci come tutte già questi esercizi piani di cavalleria dell'avversario anche perché le unità veramente resistenti arrivano dopo mentre le unità di cavalleria sono unità d'attacco pesante è una cosa un misto ragazzi un misto di strategia medievale e classica di apocalassia quindi un misto fra le falangi e le cariche di cavalleria pesante vediamo sconfitta di misura andiamo a vedere se ci viene detto qualcosa attila deceduto ho tirato ragazzi un coso per terra giusto per divertirmi vabbè dunque abbiamo vinto questa nostra campagna diciamo perché la nostra campagna era per uccidere attila adesso dobbiamo occuparci degli unni è vero ma abbiamo ucciso attila quindi dobbiamo scegliere pianificatore esperto cosa hai morale meno 10 contro i regni dei barbari forza comandata no attacco più 5 che non è stato comandato è un'abilità in oro ma è vero contro i regni dei barbari vabbè vaffanculo attila comando dell'armata d'oro contro Asbjorn i martelli il nostro nobile nemico è morto in combattimenti contro di noi ucciso in battaglia Asbjorn attila l'arco spezzato si strapparono i capelli della testa e deturparono il proprio viso con profonde ferite per piangere così i guerrieri rinomati con lamentose larime da donna ma con il sangue degli uomini attila il flagello di dio è stato sconfitto senza il suo comando le orde si indeboliscono e iniziano a dissiparsi ok ragazzi quindi fine della enorme supremazia degli unni siamo riusciti a strappare lo scettro del comando dalle mani di attila non ha senso entrare in questa modalità quindi stiamo così probabilmente ci spaccheranno in cinque appena avranno la possibilità e abbiamo ottenuto questa con molte virgolette vittoria grazie appunto a un passo falso del nemico che ha portato l'esercito di attila troppo lontano dall'altro esercito che avevano nel nord quindi appunto siamo stati in grado di colpire gli uomini di attila senza essere senza entrare in battaglia con i flagelli della steppa che comunque abbiamo la missione di sconfiggere ma vedremo di occuparci più avanti adesso ragazzi come è stato scritto nel come c'era scritto nel pop up di questo turno avremo gli unni più deboli andiamo a vedere subito come sono adesso gli equilibri adesso noi siamo al grado di forza 4 ragazzi siamo discesi al grado 4 probabilmente perché appunto abbiamo perso un sacco di uomini nella battaglia contro gli unni e abbiamo l'impero romano di occidente al grado 2 unni al grado 3 bastarni al grado 6 come dite bastarni possiedono anche il bosforo costantinopoli ma l'impero romano di oriente e mi sa che è questo qua giù Italia al grado 8 Ostrogoti al grado 9 come dite possiedono tutto dalle regioni dell'Austria questa dovrebbe essere no Slovenia Austria più Austria Slovenia fino a Roma dovrebbero arrivare fin qua giù penso no questa è Italia quindi sì fino a Roma e poi cosa abbiamo abbiamo i Marco Manni i nostri alleati e cioè no non sono alleati sono nostri non facciamoci la guerra facciamo la pace poi abbiamo Grutungi che non ci vogliono troppo bene ma io direi ragazzi che ne dite commerciamo perfetto vediamo di commerciare ragazzi con più fazioni possibile come dite adesso abbiamo pure vediamo pure dove passa la nostra lotta commerciale e vediamo appunto di contattare chiunque voglia commerciare possa commerciare con noi impero romano d'occidente ragazzi qui facciamo i big money 1427 loro guadagnerebbero 3170 vabbè non lo vogliono fare quindi niente impero romano d'oriente salvevi abbiamo conosciuto voi siete gradi forza 5 che cazzo è gradi forza 1 ma scusate gradi forza 2 3 5 ma vabbè commerciamo proviamo a commerciare con loro ci odiano quanto ci odiano un bel po però abbiamo fatto tante cose brutte agli unni noi si oi 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 ma no non mi siete fermano probabilità di successo va sono non hanno praticamente risorse sono stati mangiati dal nemico quindi vediamo i bastardni eventualmente i bastardni ci vogliono bene ma non possiamo commerciare con loro l'italia italia cara italia bella facciamo un accordo commerciale ma vaffanculo non vogliono commerciare poi cosa abbiamo abbiamo loro ma ci odiano gli ostrogoti siamo entrati nel loro territorio c'è un accordo commerciale basso come vedete andiamo a vedere quel c'è altro i quadi i quadi da queste parti vabbè che ne dici di un accordo commerciale vai soldi per tutti ok quindi commerciamo con i quadi i daci la settimania ci vuole bene la settimania il miglioramento tollerante verso le altre religioni volubile volubile cosa vuol dire troppo attente a ciò che lo circonda gli eventi e le altre nazioni che sono scateate dal suo accordo sono alleati dell'impero romano difensivi dell'impero romano d'occidente in guerra con Ispania Visigoti e Ostrogoti mentre l'Ispania in guerra con l'impero romano di occidente e di oriente con la settimania che ovviamente conosciamo la settimania ragazzi ci vuole bene guardiamo gli unni se qualcuno gli vuole bene oltre ai bastardni unni verso i bastardni verso gli unni il miglioramento da 521 a 518 no vabbè unni bastardni e che abbiamo un'altra piccola fazione vi vadiano tutti ragazzi adesso vedremo probabilmente probabilità di successo bass ragazzi non vogliono fare la pace adesso dovremo resistere alle ultime ondate di unni e poi appunto organizzare le nostre campagne militari future ok ragazzi questo episodio termina qua come dice adesso abbiamo un berth serpentone mediterraneo la ricordate questa zona eh eh guardate là guardate là macerie a posto di pella qui invece abbiamo come si chiamava questa desolata no non si chiamava desolata non sono abbastanza sicuro questa era Odessos qui ne avevamo un'altra città Costantinopoli era di qua infatti Nicomedia eccola qui boh come si chiamava questa non me la ricordo vabbè e quindi ragazzi nel prossimo episodio vedremo di riorganizzarci colpire questa settimana fargli i nostri stati cliente noi vogliamo un porto vogliamo un porto in questa zona quindi si la vogliamo conquistare dovremo colpire la settimana fatta che leate con l'impero romano d'occidente che è la seconda forza al mondo questo mi fa anche pensare che è la prima forza al mondo la persia forse nell'oriente che nessuno gli ha rotto le palle potrebbe essere vedremo 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 ragazzi come sempre se il video vi è piaciuto mettete un piaccio lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break2Play un saluto a tutti da Nicolas ci vediamo al prossimo video